Salve a tutti, io sono Rosalia Di Consolo e sono la volontaria del Servizio Civile Universale, il progetto di cui faccio parte e olevano sul tusciano tra natura e cultura. Grazie al Servizio Civile ho avuto la possibilità di scoprire e rafforzare le mie capacità. Ho imparato a lavorare in gruppo e a gestire quello che il lavoro di squadra comporta, quindi l'ascolto reciproco, il confronto e a rispettare le opinioni altrui anche se non sono condivise. Inoltre mi ha permesso di acquisire nuove conoscenze e competenze e di crescere e maturare molto a livello personale. Ho avuto la possibilità, anzi la fortuna, di conoscere persone eccezionali con le quali ho instaurato un forte legame di stima e di amicizia, che va al di là del servizio civile. Purtroppo per me e miei colleghi questa esperienza sta per giungere al termine e consiglierei a tutti i giovani che ne hanno la possibilità di fare domanda al prossimo bando. È un'esperienza che ti cambia e ti migliora, è un'esperienza formativa, costruttiva e capita una sola volta nella vita. E quindi io auguro a tutti i giovani di poterla fare.